A Venafro persistono i problemi di malfunzionamento dell'illuminazione pubblica lungo via Colonia Giulia. Dopo la segnalazione del tratto al buio nella zona dell'ospedale, da qualche giorno, da inizio settimana per la precisione, alcuni residenti segnalano problemi sul versante opposto di quella strada. Dopo il punte che vedete nelle immagini, per un tratto di circa 500 metri in direzione di Isernia, i lampioni a bordo strada sono spenti. Stamane, poco prima delle 7, la situazione era questa, con il tratto di strada illuminato esclusivamente dai fari di auto e mezzi pesanti in transito. Più critica la situazione a partire dalle ore serali, lungo quella che è l'arteria aviaria principale all'interno della città. Lì, automobili e tir, sebbene naturalmente in numero minore rispetto alle ore diurne, transitano infatti in discreto numero anche di notte. Il pericolo principale è legato alla presenza di attraversamenti pedonali. In attesa dell'attivazione del comune, certamente al corrente della situazione, c'è da sperare che il problema possa essere risolto in tempi brevi.